Se dovessi individuare due elementi che ti possano lasciare sorpreso, che ti possano lasciare a ragionare sul fatto di, ma Robin dove sta con la sua testa? Che cosa mi sta dicendo? E dovessi parlarti del futuro e di che cosa potrebbe cambiare in maniera decisiva rispetto a ciò che stai facendo adesso per comunicare e fare il tuo marketing, due cose principali mi vengono in mente. Uno, questo content marketing di cui si parla tanto, secondo me si andrà trasformando in una capacità, per chi si muove per primo, di smettere di pensare, di scrivere, 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 perché alla fine le persone, quello che vogliono, sono informazioni utili. Quindi, step piccolo, passare dal semplicemente riempire pagine di testo al dare informazioni immediatamente utili, non opinioni personali. E due, lo step più grande potrebbe essere quello di costruire strumenti, tool, anche semplici, che puoi dare ai tuoi potenziali clienti. Guarda, gli strumenti e i tool possono essere sia documenti cartacei, dove non c'è un articolo, così come possono essere dei tool su una pagina web. Facciamo due esempi terra-terra. Un tool cartaceo è quello, per esempio, di un'azienda che vende prodotti per la salute e che quindi rivolgendosi a un pubblico, vuoi, di farmacie, di arboristerie o di clienti finali che sono preoccupati per la propria salute, un documento dove posso trovare delle informazioni che non troverei da nessuna parte, che mi sono immediatamente utile e che mi risparmiano un sacco di tempo. Esempio concreto, io sono appassionato di salute, quando vado a comprare una bibita, un drink o qualcosa, che faccio? Giro l'etichetta e leggo ingredienti. Cosa c'è dentro? E sempre arrivo a E323, E224. Quindi quando tu mi fai un foglietto piegato in due o tre parti, dove ci sta da E101 a E999 e accanto ognuno mi dici se è ottimo, prodotto naturale, chimico, dannoso, ricerche dicono che può produrre il cancro, mi stai dando in un pezzettino di carta, non il solito articolo, ma delle informazioni immediatamente utili che io me le metto in tasca e me lo porto con me tutta la vita questo foglietto. Questo è uno strumento, così come può essere uno strumento che aiuta i tuoi futuri clienti a valutare, a proiettare nel futuro ciò che loro potranno fare, simulandolo ad esempio, calcolandolo, quindi strumenti che pagando poche centinaia di euro uno sviluppatore, una piccola agenzia in grado di creare queste cose per te, diano la possibilità ai tuoi clienti di quanto è il lifetime customer value dei miei clienti o come posso far capire ai miei clienti quali sarebbero i vantaggi se loro usano questa mia apparecchiatura. Posso far programmare una paginetta dove inserendo i loro dati loro hanno immediatamente una proiezione di quelli che saranno i loro ritorni, il risparmio di gomma sul pneumatico che stanno usando piuttosto che la quantità di acqua che dovranno usare per il tuo sistema di irrigazione. Non glielo devo spingere, gli do uno strumento per provare e verificare quali saranno i benefici che loro potranno avere. Ci sono, li avrai visti, tanti siti che sono riusciti a conquistare un grande pubblico senza avere nessun blog, nessuna sezione news, nessun articolo, hanno una pagina con un tool che spacca, può essere semplicemente una collezione di risorse dedicate a risolvere un problema, ma quando tu la trovi quella te la segni, non ti scappa più e quando la guardi una, due, tre, quattro, cinque volte poi ti dici ma chi l'ha fatta sta figata? Ma dove la trova un'altra cosa? Così vai a leggere in fondo e scopri che dietro c'è un'azienda che fa qualcosa, che costruisce dei prodotti, degli apparecchi ed è così che la scopri attraverso l'utilità che lei ha creato per te.